Ciao a tutti, un bacione davvero dalla Sonica, sì e dalla famiglia, dalla famiglia, dalla famiglia, se sentite, mangia la papa, sta mangiando la papa, allora, video appunto spesa essere lunga, l'abbiamo fatta arrivare online, l'abbiamo fatta portare, non so dove iniziare, quanti sacchetti, amore, iniziamo da questo che è pesante, dai, allora, ci sono quattro bottiglie di tè, la metto qua, alla pesta, questo qua è della Smart, dietro lì la panna, quattro confezioni di acqua panna, poi, due di gazzosa, da solito prendiamo sempre Smart, ho sentito tacche questo, non ho combinato, spero di non aver spaccato niente, sì, allora, Tiguglio? Allora, questo è il figuro, se non si correva giù a prenderlo lui, Tiguglio, pomodori, secchi e pistacchi, e poi le conserve della nonna, questo qua era il bula bolognese, pensavo che era un po' più grosso, no, ce n'è un altro più grosso, poi, un po' di bibitine, chi no, chi no, San Pellegrino, qua ce n'è un'altra, da avere la spedizione, grazie, no, per averla 2,90, ah no, 2,90, ce n'è da acquistare totta, totta euro, un po' di bibite, tutto, allora abbiamo preso quattro di panna, poi un po' di bibite, così, quando ci beviamo che viene, viene qua qualcuno, mangiamo la pizza, almeno abbiamo qualcosa, allora, pennette di gate, pennette di gate, c'è ancora una barina in affetta, tutto un po' misto di vera la pasta ancora dopo, ma non so dove, poi, 2 yogurt, allora, uno intero, e uno, a banana, e bianco, per gli G, poi, navioli, questi qua che ci piacciono tantissimo, abbiamo preso quattro confezioni, ma due sono già dentro là, che stanno cuocendo, perché oggi mangiamo quelli, perché è ora di pranzo, perché adesso è mezzo giorno e mezzo, perciò è ora di pranzo, poi, wüste, da mettere sulla pizza, poi, una iocca di Sharon, ah, un altro wüste, poi, qua, allora, così, mettiamole tutti insieme, qua, passiamo il sacco, allora, un pacchettone di questo qua, più economico, sì, quello più economico, però d'altro, in questa casa qua, il formaggio grano va di più del pane, ne va uno, un pacchettino a 100 grammi, a volta qua, va di più del pane, adesso io è sicuro, perché io non mangio più pane, perciò, allora, poi, e mentale, qua lo sai, che è buono, riesci? Allora, qui c'è il latte, una, abbiamo preso questo, stavolta, che prendevamo già una volta, perché non c'era nient'altro, in offerta di gradevole, perciò, abbiamo preso, sei di questi, vi pare, 5 e 6, ho, una Pepsi, wow, tutto il berlo, mi devo guardare, ho, qua c'è ancora qualcosa di incartato, ah sì, cirio, passata di pomodoro, una, ma nonna, te lo lancio a te stavolta, doveva essere tre, credo, questo, no, questo, pomodoro dolce, ma non era male questo, infatti, e poi, qua c'è un altro cirio, il mio marito usa, che altro, la pizza, scusa nonna, poi, buono, questa, salame, negronetto, io lo adoro, non so voi, ditevi voi, c'è, per me, quello più buono che c'è in commercio, di questi confezionati così, dopo certo, tanti con lo nostrano, lo taglio a fette, non c'è, c'ha su perché, per carità, allora, poi, un formaggio un po' più buono, e ce ne sono altri due, tre in tutto, qua, poi, basta delle lasagne, che abbiamo, abbiamo fatto delle lasagne, col capolfiore, che ci piacciono tanto, la besciamella, la facciamo col bimbi, e qua, poi, ah, questi buoni, allora, questo è il mio agliamponi, anch'io, ogni tanto, il mio yogurt, ah, con l'omaggio, ah, l'omaggio, è vero, che fino omaggio, ti ricordi che tu hai detto ieri, che, e dopo dovrebbe esserci leggero, un altro pistacchio di Sharon, ah, e sicuramente, il Jason piace, sì, quasi messo in omaggio, senza lattosio, e questo è il Kefir, questi li abbiamo messi in omaggio, wow, grande e se lunga, dovrebbe esserci ancora uno, allora, bene, perché con lo speso là, ogni tanto, ti mettono qualcosa, per provare i prodotti, di test, bene, allora, gnocchi, uno, due, dovrebbe essere tre, e tre, e poi, il cavolfiore, eccolo qua, beh, non è neanche esageratamente, va bene, per fare la lasagna, va bene, la pina di lasagna, ci sta, quando prendi la verdura online, così, non è che sei lì a guardare, prendi quello che vuoi te, ci mandano, quello che ti portano, ti prendono, è così, però, sempre non è bevello, perché, tanto, sapete che, si ingialliscono, si scuriscono, è bello, bello bianco, allora, altra pasta, che metto di qua, allora, fusilli, 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 poi, vediamo se lo c'è qua, pane, questo integrale, che mangia il mio jade, ecco qua, aspettate, e quattro, già, come faccio vedere bene, così, questi erano le mie offerte, i boldi, che io mi ci faccio la colazione, vedo quello, altro cinque erano, e altro pacchettino, vuoto, ci sono ancora, due sacchettoni, aspettate, lo sposto di qua, allora, perché non vorrei far carire niente, perché qua c'è ancora del vetto, scusate, perché quando c'è, imballato così, c'è un uomo e ricco, aspettate, altra bibita, dell'offerta, dell'offerta, che abbiamo dovuto prendere, per avere appunto, la sedizione a meno, c'è dovuto, l'abbiamo preso, eh sì, nessuno si è obbligato, no, però, eh sì, nel senso che, per avere appunto, la spedizione a meno, chinotto, 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 e l'aranciata, ma sbaglio, stanno facendo tutte cose, a zero, senza zucchero, parecchie, allora, qua c'è le uova, tra me lo zucchero piace, nei bibite, se no non le bevo, qua, uova, incartate, almeno l'unico dolce, e questo, è un altro, sughetto, voilà, allora, adesso arriva ancora la pasta, scurati, faccio le, linguine, è più piccolo, ho preso le linguine, è mezzo chilo quello lì, eh sì, cacchio ho sbagliato, mezzo, ho sbagliato, perché costa, mezzo e mezzo, un chilo di, ehm, staglietti, un chilo, un chilo, sì madonna me scusa, un chilo, un chilo, no ho sbagliato quelli, eh linguine, a meno che ci sia in un altro mezzo, no, no, ah, ecco qua ho scusato, un altro omaggio, per lana, eh beh, questa è una tabs da mettere nella lavatrice, che carini, più di queste dovete regalare, la lana, non c'è neanche niente di lana, no, niente, ma è per la lana, per lana non è per la lana, per lana sì, ok, vabbè, se c'è in giro qualche maglioncino adesso, come un c'è, la nonna, ci siamo sempre a felpe, ehm, penne, e adesso ce ne in giro ancora, credo, allora, cracker, tonno, ce l'ha questa in offerta, aspettate, ah, vieni uscine, Sharon per la colazione, e, amore, fino a sabato, non possiamo mangiare i dolci, cioè domani, cos'è quello lì? non lo immagino, ah, infatti non l'avevo preso quello lì, il Piemonte, non so cosa sia, non saranno, ci sarà dentro uno, al massimo due cioccoletti, però che carini, tutti questi omaggini, i dolci sono una volta alla settimana, almeno io, io ho la brioche la mattina, vabbè, è dolce, per fare la colazione, però penso andare a sera, di smaltirla, credo, ah, ah, fa niente la mattina, per forza, anche io i dolci, solo al sabato, è sugo la bolognese, è la brioche dolce, eh, lo so, però se non mangio la briochina, la mattina con il latte e il caffè, buonanotte, ciò di loro, chi si va a lavorare, allora, ancora un sacchetto di giallo, dove, eh, quanta spesa però che abbiamo fatto, eh, miselli, sempre questi, smart, poi, penne, ecco che sono arrivate ancora, mettiamo qua, perché non so più dove mettere la pasta, le briochina della nonna, penne, ancora, penne di nuovo, spesso che è un po' avanti, pasta ne ho presa tante, perché, eh, sì, qua va, siamo carenti, e poi, mezze penne, ancora, e qui dovrebbero esserci le lenticchie, aspettate che ce la faccio, le metto qua davanti, queste qua sempre, sono buonissime, queste, mi raccomando, se volete, allora, tonno, poi aspettate che qua c'è, una bottiglia, ci sono ancora due gazzose, una, 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 due, e poi qui c'è il cartato, c'era ancora cirio, sì, ancora, ah no, ah quello là, ricotta, ah sugo, pomodoro e ricotta, e dovrebbe, vediamo, 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 le olive, ah le olive, le olive, e dopo c'è il surgelati qua, sì, adesso le scartiamo, le olive le appoggio qua, vabbè, qualcosina abbiamo preso, ma sì, la nostra scorta di pasta, i sugli sì dai, aspettate, dopo lo diciamo, vabbè, si può dire anche prima, allora era 118, meno il buono da 10, 108, 108, tutta quella scheda qua, matemi sui gelati, allora ecco, aspettate, mozzarella prosciutto, mozzarella pomodoro, poi, mozzarella pomodoro, mozzarella prosciutto, e queste qua costano poco, sono abbastanza economiche, e marcate se lunghe, e queste al formaggio, e sono le creppe, che a me piace, noi mettiamo nel fornetto, andiamo a voglia, non sappiamo cosa mangiare, ci sono anche queste, e basta, questa è tutta la spesona, dai, ne avevamo di bisogno, delle nostre scorte di pasta, un po' di roba, di latte, di cose, perciò, abbiamo preso un po' di sughi, un po' di cosine, e niente, un'altra bella spesina fatta, dai, era un po', che non prendevamo la, no, eravamo andati a prendere, se non facciamo la spesa grande così, poi andiamo sempre, magari a prendere qualcosina, che ci manca, un meteo lì, con la conada, che abbiamo qua vicino, però almeno, qua quando c'è qualcosa, che riusciamo a prendere online, prendiamo proprio la scorta, un po' di pasta, a meno penso che per un po', questi pacchettoni qua, durino, e niente, dai, fateci sapere nei commenti, vi mando un bacio enorme, al prossimo video, ciao a tutta la family, ciao, ciao a tutta la